Ci è voluto quasi un quarto di secolo per rinascere questa piazza. Un tempo lunghissimo per uno spazio tutto sommato contenuto. Eppure, tra gravidanze isteriche e false doglie, il parto si è trovato davanti tanti ostacoli e pochi scivoli. Ora però ci siamo. La piazza è nata e la fine dei lavori non può che coincidere con la ripartenza. Piazza Nilde Iotti è tornata ai residenti che da anni si battevano contro palude, ratti, degrado e scempi vari. Siamo nel complesso ex GMG lungo via di sotto a Pescara e abbiamo appuntamento con il sindaco Carlo Masci che ieri, con una piccola cerimonia, ha dato il via al nuovo corso di piazza Iotti, rinata grazie alla convenzione tra il comune e la società gli Oleandri. I cittadini hanno aspettato 24 anni per vedere questa piazza completata perché poi le procedure amministrative che sono complesse bisogna anche saperle utilizzare nel senso favorevole ai cittadini. Chi abita qui oggi finalmente si affaccerà su una piazza e non su un cantiere eterno qual è stato questo di piazza Nilde Iotti. Manca ancora la parte privata che deve essere completata. Già la proprietà ha richiesto le autorizzazioni per realizzare negozi in questi spazi. Io credo che nei prossimi mesi la proprietà li realizzerà velocemente perché ha interesse non soltanto a che la piazza sia vivibile ma anche a completare l'intervento. Abbiamo fatto un accordo con il privato che ha speso 850 mila euro per completare questa piazza. In più ha acquistato i parcheggi che sono sotto la piazza che attualmente sono al grezzo dando al comune di Pescara altri 300 mila euro che noi abbiamo investito. Stiamo anche risanando per esempio la frana che è qui dietro al Conad dove io vorrei realizzare un parco a disposizione dei cittadini dei colli e di tutta Pescara perché c'è un bello spazio piano dove poter piantare alberi e dove fare un parco che le mamme, i bambini, gli anziani di questa zona potranno frequentare.